È morto a 67 anni dopo una lunga malattia Filippo Penati, ex dirigente del Partito Democratico, presidente della provincia di Milano e sindaco di Sesto San Giovanni. Capo della segreteria di Pierluigi Bersani, candidato alla guida della regione Lombardia e vicepresidente del Consiglio regionale, nel 2011 fu accusato di far parte di un presunto giro di tangenti denominato sistema Sesto. In parte assolto e in parte prescritto, dovette però dimettersi ed autosospendersi dalle cariche di partito. Un anno fa, condannato dalla Corte dei Conti a risarcire per danno erariale la regione per l'acquisto di azioni della Milano-Serravalle, rivelò di avere un tumore, conseguenza disse anche delle sue vicende giudiziarie. Nel 2012, dopo la sentenza Sesto, si ritirò dalla politica e si dedicò al volontariato, insegnando in una scuola per stranieri gestita dai francescani a Milano. Ha dato un senso in un momento drammatico della mia vita, ha dato un senso, ha dato una ragione, intanto ti tiene impegnato la testa, pensi meno alle cose brutte e poi fare del bene fa bene. Grazie.